Barbara D'Urso per la prima volta replica alle dichiarazioni rilasciate da Gerardina Trovato Ecco le parole della conduttrice. Barbara D'Urso nelle ultime ore ha voluto replicare alle dichiarazioni di Gerardina Trovato La nota cantante dopo esser stata abbandonata dal mondo della musica, negli ultimi mesi Un suo video è diventato virale, e da lì a poco sono arrivati milioni e milioni di commenti ed aiuti concreti Gerardina infatti per la prima volta ha parlato di come ha affrontato questi anni lontani dalla musica e dai riflettori La replica inaspettata sui social della conduttrice, Gerardina, trovato stando a quanto riporta Kamingsun, nell'intervista rilasciata a Mao, ha definito, una minciat asterisco, la sua presenza a live non è la D'Urso La cantante ha dichiarato, sono andata lì per raccontare la mia storia, avevo scritto un libro, ma Barbara non mi ha lasciato parlare Ha detto tutto lei, senza farmi dire nemmeno una parola. È stata una grande minci asterisco avevo tanto altro da dire, cose importanti che venivano dal cuore, ma mi è stato impedito di farlo Nelle ultime ore la conduttrice ha condiviso nelle sue stories Instagram il video dell'ospitata della cantante Gerardina, trovato ed ha deciso di replicare La D'Urso ripostando il video del servizio andato in onda a live non è la D'Urso, condiviso da un suo follower che ha aggiunto, in passato solo Barbara D'Urso ha cercato di darle visibilità e aiuto In merito alle dichiarazioni dell'utente, Barbara in un'altra stories Instagram ha voluto mostrare per l'ennesima volta vicinanza alla cantante dichiarando, ed oggi come allora, forza Gerardina Non si conosce ancora il futuro lavorativo di Barbara La nota conduttrice dopo l'addio a Mediaset tornerà sul piccolo schermo?